Buonasera, secondo me ci è mancato negli ultimi 20 metri l'ultimo passaggio, il tiro. Abbiamo giocato contro una squadra forte, con 2-3 azioni ci hanno fatto due gol, però meritavamo qualcosa di più in questa partita. L'abbiamo preparato bene, abbiamo giocato bene tutti i 90 minuti e sono contento della prestazione della squadra. Noi cerchiamo di fare ogni partita meglio possibile, di fare le cose che chiede il mister, così saremo più squadra, più uniti e possiamo fare molto di più come squadra. Non ti posso dire la verità, ma è un giocatore forte, lo conosco bene e gli faccio i complimenti per il gol oggi. Il nostro obiettivo è sempre stata la salvezza, di migliorare ogni giorno nella partita anche e di essere più squadra in ogni partita.